... Regione, il centro-destra rinuncia al secondo sottosegretario, costerebbe troppo il referendum. Vaccino, anti-bronchiolite a pagamento per i bambini e polemica, la retromarcia del governo. La sua panda si ribalta, salvato dalla cintura di sicurezza, la disavventura del signor Alessio. Dura presa di posizione del sitaco di Isernia sull'aumento di Irappeirpef, momento già difficile. Il Molise e le sue eccellenze al G7 sull'agricoltura di Siracusa, Micone si parlerà della nostra terra. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale ore 13.30, canale 12. Vi ricordo canale 12, 13 e 30. Questo telegiornale, per chi non ce la facesse, può essere visto in replica intorno alle 2.35, 2.40. Ma cominciamo subito con le notizie. La prima è quella relativa a diversi incidenti stradali. I primi a Campobasso, mattinata di incidenti sulle strade molisane intorno alle 8, lungo la tangenziale ovesti di Campobasso. Si sono scontrate una Fiat Punto e una Golf. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo lievi ferite sul posto. Gli operatori dell'ANAS che hanno provveduto a liberare la carreggiata qualche ora più tardi. Sempre a Campobasso, lungo la strada statale 87, una Peugeot si è schiantata contro lo spartitraffico. I sanitari del 118 sono intervenuti per le prime cure, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi. E andiamo avanti con gli incidenti. Vediamo questo singolare incidente stradale avvenuto nella mattinata. Domenico Marzocchella. Alessio, stamane di buon'ora è partito da casa a Santa Maria Oliveto, diretto a Venafro. Pochi chilometri, che per un signore alla soglia dei 90 anni, sono comunque un viaggio. D'altra parte, Alessio ha una commissione importante da fare. Ritirare le sue medicine in farmacia e, già che c'è, magari approfittarne per fare la spesa e qualche altro servizio, visto che lassù, nel borgo di Santa Maria, oltre alle case, c'è poco altro. Poco dopo le 10.30 risale sulla sua Panda Blu e prende la via di casa. Appena uscita da Venafro, all'altezza di via Maiella, quell'auto, i passanti nella trafficataria, la vedono ribaltata a centro strada. Dentro c'è Alessio, salvato e al contempo imprigionato dalla cintura di sicurezza. I carabinieri ci mettono un attimo ad arrivare. La caserma è distante 200 metri. Subito dopo, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno il loro bel da fare per liberare il malcapitato. Quando arriviamo sul posto, notiamo subito un attempato marzillo signore parlare con i carabinieri e rassicurare a turno figlia, nipote e altri familiari che nel frattempo si erano precipitati lì. Alessio parla anche con noi, prendendoci per mano, come se cercasse il contatto per farsi passare la paura e per avere conferma che sì, va tutto bene. In effetti, a vederlo e a sentirlo, non sembra che mezz'ora prima in quell'abitacolo sotto sopra ci fosse proprio lui. Pare che all'origine dell'incidente ci sia l'impatto con la ruota posteriore di una Fiat 500 rossa parcheggiata a bordo strada. Alessio abbraccia anche la proprietaria, che intanto era stata avvisata dell'accaduto. Alessio dice di non essersi accorto di nulla, ma di una cosa, è certo. Tornerà a guidare? No, no, no. Non ho appena sistemato tutto il coso, pido la patente e la straccia, perché ora posso arrivare alla polizia, non lo so. Prende la strappa. Non se i carabinieri lo faccio qui, pronto. Insomma, 90 anni sta messo bene questo signore. Marcia indietro del centro-destra regionale che rinuncia alle modifiche statutarie per il secondo sottosegretario. Costerebbe troppo il referendum chiesto dalle opposizioni, circa un milione e mezzo, che la regione non può spendere. Ragion per cui i consiglieri Miro, Sabusco, Passarelli, Di Pardo, Cofelice, Roberti, De Giglio, Cefaratti, Cavaliere e Pallante hanno presentato una proposta di revoca della deliberazione legislativa numero 14 del 5 marzo sulla modifica statutaria necessaria a istituire il secondo sottosegretario. Insomma, il centro-destra ci ha ripensato e inchiodato dal discorso del referendum. Non ha voluto affrontare un referendum dal destino segnato. E restiamo in tema della politica regionale di quello che combinano lorsignori perché anche il sindaco di Isernia, insomma, dopo le diverse proteste che ci sono state già alla regione, alza la voce contro i nuovi aumenti di IRPEF e IRPEG regionali, aliquote regionali. Poveri molisani, tassati e tartassati. Siamo la regione dove si pagano più tasse in Italia. Aumento dell'IRAP e dell'IRPEF in regione firma, condanna da parte del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che così commenta. Purtroppo per l'ennesima volta brutte notizie per i molisani, l'ennesimo aggravio fiscale, soprattutto sulle tasche dei cittadini che le pagano e delle imprese che devono investire. Questo vuol dire che il percorso intrapreso dalla politica regionale non è ancora quello che dovrebbe essere, a pagare sono sempre i soliti. Un incremento, commenta il primo cittadino Pentro, che tra l'altro arriva in un momento già delicato per quanto riguarda l'economia molisana. Questa cosa arriva in una settimana in cui abbiamo ricevuto anche la brutta notizia che lo stabilimento Sellantis per ora non avrà quell'investimento enorme, anche con fondi PNRR, una politica regionale che sta a guardare e che soprattutto ora dovrebbe pensare che il comparto automotive non è solo Termoli, c'è anche Isernia, ci sono anche altre aziende della componentistica dell'auto che hanno bisogno sicuramente di investire, di investire tanto in un mercato che diventa sempre più competitivo. È necessario, sottolinea Castrataro, a questo punto un deciso cambio di rotta da parte dell'amministrazione regionale. Ci aspettiamo che la politica regionale faccia uno scatto dal punto di vista dell'ammissione di questa regione, delle aziende tra virgolette da sostenere e quindi ora sta dormendo e chi ne paga le conseguenze di questo sonno sono solo i cittadini onesti. Una circolare del Ministero della Salute esclude le regioni in piano di rientro tra cui il Molise dà la somministrazione gratuita del vaccino antibronchiolite. Scoppia così la polemica ma il Ministero precisa sarà gratis per tutti i bambini. Antonia Cristinzio. Un antipasto amaro di quelli che possono essere gli effetti dell'autonomia differenziata. Così alcuni hanno definito la circolare del Ministero della Salute che rischia di lasciare i bambini molisani senza vaccino antibronchiolite. Si tratta del Nirsevimab, farmaco capace di prevenire la diffusione di un virus che uccide ogni anno 100.000 bambini. A fronte di un aumento dei casi registrati il Governo ha avviato un'interlocuzione con l'AIFA per il suo trasferimento dai farmaci in fascia C a quelli in fascia A, quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È considerato però prestazione extra-LEA, ovvero non incluso nei livelli essenziali di assistenza. Le polemiche sono nate intorno alla circolare del 18 settembre, quella che spiega proprio come le regioni debbano garantire la copertura finanziaria con risorse a carico dei bilanci regionali, aggiuntive rispetto al Fondo Sanitario regionale. Di fatto, se le cose rimarranno così, nelle regioni con i conti sani i bimbi saranno vaccinati gratuitamente, mentre in quelle con i conti in rosso no. PD e Azione hanno definito vergognoso il tentativo di negare il farmaco in alcune regioni, parlando di primi effetti della legge Spacca Italia sull'autonomia differenziata. Poi è arrivata la precisazione del Ministero. Il problema scaturirebbe da una normativa restrittiva per le regioni in piano di rientro, come il Molise, che rende difficoltosa l'erogazione di farmaci non compresi in Elea, attraverso una decisione autonoma da parte di queste regioni. In una nuova circolare, il Ministero ha fatto sapere di aver già avviato un tavolo con l'Agenzia del Farmaco per fornire il vaccino gratis da nord a sud. Nelle prossime ore si terrà una riunione al Ministero tra i Dipartimenti della Prevenzione e della Programmazione per superare gli ostacoli normativi e dare l'ok alla vaccinazione gratis in tutto il territorio. E ora passiamo all'emergenza acqua. Una brutta gatta da pelare per tutti. Flusso idrico interrotto a scapoli da lunedì 23 settembre. Lo rende noto Molise Acque, che prevede il ripristino del servizio. Nella serata, intanto a Capobasso, con una nota diffusa qualche minuto fa, la Grimm informa che dalle 15 di oggi fino alle 6 di domani sarà interrotto il flusso idrico in numerose zone del capoluogo regionale. Qui bisogna fare una sottolineatura, un appello al Presidente Roberti. Presidente Roberti, in Molise c'è EGAM, Molise Acque e Grimm. Abbiamo tre enti responsabili dell'erogazione dell'acqua che non arriva nelle case. Insomma, vogliamo fare qualcosa? Presidente, il Molise è la regione ricca di acqua, il petrolio azzurro del Molise è l'acqua, ma è possibile che ci sono tre società, tre consigli di amministrazione, tre presidenti, poltrone che costano decine di migliaia di euro ogni mese in tre enti e l'acqua non arriva ai rubinetti. Insomma, Presidente Roberti, veda lei se può fare qualcosa per porre fine a questo che è un autentico problema. Intanto il Molise prenderà parte al G7 sull'agricoltura a Siracusa. Ci racconta tutto il nostro Gerardo De Luca. A partire da domani e fino al 29 settembre a Siracusa si terrà il G7 sull'agricoltura, a cui prenderà parte anche il Molise con tutte le sue eccellenze agroalimentari. Alla manifestazione, organizzata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, saranno presenti studenti e giovani agricoltori, con la partecipazione di oltre 10 ministri, 200 stand e 600 realtà coinvolte. L'assessore regionale all'agricoltura, Salvatore Micone, ha parlato dell'importante occasione che può rappresentare per la nostra regione. Un appuntamento è una vetrina internazionale importantissima dove il Molise non poteva mancare. Noi saremo presenti con uno stand espositivo, uno stand che si svilupperà su 5 settori prodotti della nostra terra che rappresentano dell'eccellenza. L'arte casearia, la filiera del grano, quella del vitivinicolo, quella del tartufo, quella dell'olio. Il G7 a Siracusa sarà sicuramente un momento di confronto importante, dove si parlerà soprattutto di quello che è il momento difficile dell'agricoltura, dovuto soprattutto ai cambiamenti climatici, all'aumento delle materie prime, della concorrenza sleale. Insomma, questi sono temi che negli ultimi anni hanno messo un po' in crisi questo settore. Però è pur vero che il Ministro sta facendo un lavoro, soprattutto in Europa, per cercare di rimettere l'Italia al centro delle politiche europee. E quindi tutto questo che coincide con l'inizio del nuovo programma di sviluppo rurale, che metterà diverse decine di milioni di euro come liquidità sul territorio, non solo come sostegno, ma soprattutto anche come investimenti per quanto riguarda le nuove generazioni, perché il cambio generazionale è un aspetto importantissimo in questo settore. Ma come andrà il Molise al G7 di Siracusa? Ci andrà accompagnato da un bello spot, un filmato realizzato sulle bellezze della nostra regione. Vediamolo in quest'anteprima. Sono un luogo dove il tempo scorre lentamente, dove ogni giorno inizia con la luce che accarezza le colline. Sono una terra che nutre. Il pane, fragrante e genuino, racconta di mani laboriose e di tavole imbandite con amore. Sono la saggezza dei pastori, trasformata in sapori antichi. Il mio formaggio porta con sé l'essenza dei miei pascoli e dei cieli aperti. Sono il frutto di una terra generosa. Da me nasce l'olio, oro liquido, che scorre nelle vene della mia gente. Il vino che produco è memoria, passione e tradizione. Ogni sorso racconta una storia lunga secoli. Sono una terra di segreti nascosti. I miei tartufi, rari e preziosi, raccontano l'anima più profonda della mia storia. Io sono il Molise. Sono i sapori autentici di un tempo che non conosce fretta. La quiete che avvolge ogni passo. La voce di una terra che parla attraverso i suoi frutti. E oggi porto la mia storia, la mia anima, il mio cuore al mondo. Molise, ambasciatore del gusto italiano al G7 Agricoltura. Divinazione Expo Agricoltura e Pesca. Dal 21 al 29 settembre a Siracusa, nella splendida cornice di Ortigia. E insomma un bel biglietto da visita per la nostra regione, questo spot realizzato in maniera sapiente. A Campobasso, domenica, sarà possibile viaggiare gratuitamente sugli autobus della città. È una delle iniziative dell'amministrazione comunale in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile. Francesco Adam. Il comune di Campobasso sposa l'iniziativa della settimana europea della mobilità sostenibile. Presentate questa mattina nella sala consigliare le iniziative programmate. Domenica, 22 settembre, il Car Free Day. Sarà possibile viaggiare gratuitamente sugli autobus di tutte le linee urbane di Stati. Ovviamente gli autobus a trazione elettrica. Per la settimana green sentiamo l'assessore Mimmo Maio. Allora questa è un'iniziativa che pone Campobasso al centro delle iniziative tese alla sostenibilità ambientale, a sensibilizzare la cittadinanza, noi tutti, ad una fruizione della città senza l'utilizzo delle auto. È un'iniziativa che è patrocinata dall'Unione Europea, che insieme ad altre città, tra le più importanti Bari, Napoli, Milano, Torino e Bologna, mette Campobasso quindi in prima linea in questa, non battaglia, ma opera di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza al fine di fruire di questi spazi pubblici, in questo caso il centro, senza auto, quindi con un alto valore oltre che morale ed etico ambientale. Abbiamo quattro iniziative, il roller camp che si terraverso in Viale Elena, poi avremo l'iniziativa degli smemorati di guerra, poi avremo una passeggiata ecologica per conto dell'associazione AIL e poi abbiamo una manifestazione, un'iniziativa tenuta all'ordine dei medici, tesa a sensibilizzare rispetto a delle malattie importanti, quali la leucemia, eccetera. E poi dalle 16 alle 18 avremo l'iniziativa tesa al coinvolgimento della cittadinanza al gioco degli scacchi. Queste sono iniziative che accompagnano la misura che noi stiamo proponendo, che davvero non sarà l'unica, sarà l'inizio di varie giornate che avremo durante l'anno. E ora trasferiamoci a Isernia dove c'è stato il Consiglio Comunale, ci racconta tutto Carla Marino. Isernia, il Consiglio Comunale approva con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti la mozione promossa la settimana scorsa dal Partito Democratico su proposta della consigliera Angela Perpetua con cui si impegna l'amministrazione a manifestare in ogni sede istituzionale il no alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Vivace il dibattito in aula tra maggioranza e minoranza, tra le voci dell'opposizione la consigliera Linda Dall'Olio ha sottolineato come il vice premier Tajani abbia costituito una cabina di regia con i presidenti di regione assumendo l'impegno che l'autonomia differenziata potrà essere realizzata solo dopo aver garantito i leppi in tutte le regioni. Fatta chiarezza sui dubbi attuali, ogni forza politica capirà il da farsi ma Forza Italia si assicurerà che nessuno venga lasciato indietro. Diverse le considerazioni dietro le motivazioni che hanno portato i consiglieri ad esprimersi contro la legge Calderoli come spiega Alex Paniccia di Comunità Attiva. Nello stesso disegno è scritto che questo non può essere attuato ad ulteriori spese della finanza pubblica e quindi devono essere le stesse regioni che poi attuano l'autonomia differenziata a dover far fronte a quelle spese necessarie a garantire le stesse di essenziali d'assistenza. Che cosa stiamo osservando oggi? Già un antipasto con il fatto che la regione molise ha aumentato l'IRPEF ulteriormente dello 0,3%. Ad oggi abbiamo le tasse più alte d'Italia e siamo una delle regioni che sconta maggiormente la possibilità di avere dei servizi funzionali allo spostamento e all'organizzazione di tutto il territorio. Per concludere mi fa sorridere molto il fatto che l'ultima decisione trovata è stata quella di utilizzare quelli che sono i fondi del fondo di coesione per riqualificare i ROC, i fondi che per utilizzo e per destinazione sarebbero potuti essere utilizzati per migliorare le infrastrutture piuttosto che riorganizzare quelle che sono le strutture presenti anche in ottica di quel cambiamento climatico che proprio in queste ore stiamo osservando sta creando tanti danni all'Emilia-Romagna. Quindi la mia domanda è questa, ma siamo proprio sicuri che questa autonomia differenziata concepita in questo modo, in una struttura regionale che oggi si muove così è la scelta giusta. E chiudiamo il nostro telegiornale con un redazionale realizzato da Domenico Marzocchella su un'iniziativa commerciale nella città di Venafro. Vediamo il servizio. Una giornata dedicata agli installatori e ai clienti finali con la possibilità di conoscere e letteralmente toccare con mano le novità del settore. L'open day è di Elcom, ma la realtà venafrana, punto di riferimento nel centro-sud Italia per la distribuzione di materiale elettrico, apre anche alla termoidraulica. Negli spazi esterni dell'azienda, in località La Madonnella, espositori di caratura nazionale per lo più provenienti da fuori regione. Ecco quindi, per la felicità degli addetti ai lavori e degli utilizzatori finali, l'ampia esposizione di prodotti che vanno dalla raccorderia alle pompe idrauliche agli accessori per l'irrigazione, ma ci sono anche dispositivi di controllo elettromeccanici per piscine e, naturalmente, caldaie. L'elenco dei prodotti non è e non poteva essere esaustivo. Gli ambiti di utilizzazione invece svariano dal civile all'industriale. La nostra azienda da sempre cerca di offrire un servizio più ampio e completo alla propria clientela ed è per questo che abbiamo ormai da tempo deciso di ampliare la nostra gamma di prodotti anche con il settore termoidraulico. L'abbiamo fatto nell'ottica di consentire a tutta la clientela con questo open day di poter toccare con mano le novità del settore e le proposte innovative dei principali marchi presenti oggi. Marchi, sottolineano ancora da Elcom, nonostante siamo approdati nel settore da pochi mesi già disponibili in magazzino. Quanto sono importanti iniziative come quella di oggi? È importantissima perché innanzitutto riusciamo noi, come appunto del TAI Air Garver, a essere presenti con novità che fanno risparmiare quello che è il mondo dell'acqua, energia elettrica, anche su una regione come il Molise che ha necessità appunto di risparmio idrico. E per quanto riguarda appunto l'innovazione è importante essere sempre presente in tutte le zone d'Italia. Il bacino di clientela potenziale qui in Molise? Direi che sicuramente è importante perché comunque il bacino di utenza sono comunque installatori, imprese, anche i privati che hanno bisogno magari del classico autoclave per casa o insomma la pompa per irrigare il giardino eccetera. Quindi come bacino di utenza è abbastanza ampio e su questa zona direi abbastanza interessante. Importantissime perché riusciamo a creare la vicinanza fra l'azienda fornitrice e il cliente finale per mezzo del rivenditore, in questo caso Elcom che ci ha ospitato in questa meravigliosa giornata. Spero che sia profigua per tutti quanti. Bene, si chiude qui il nostro telegiornale e io vi ringrazio per l'attenzione e passo la linea ai colleghi abruzzesi della QTV per il loro telegiornale che comincia alle 2 in punto. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio.